In un mondo segnato da contraddizioni e ingiustizie, la Chiesa deve rispondere a innumerevoli difficili sfide. Il Vescovo, visibile principio di unità, ha il compito di edificare incessantemente la Chiesa particolare nella comunione di tutti i suoi membri. È la riflessione che Papa Francesco ha rivolto ai Vescovi dei territori di missione a Roma in occasione di un seminario di aggiornamento promosso dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Rivolgendosi a quanti hanno il privilegio e la responsabilità di essere in prima fila nell'Evangelizzazione, il Pontefice ha raccomandato la preparazione dei presbiteri in seminario, senza mai dimenticare che il prossimo più prossimo del Vescovo è il presbitero e la sollecitudine ad andare incontro alle persone perché i credenti, anche quelli tiepidi o non praticanti, scoprano nuovamente la gioia della fede. Vigilate attentamente, aggiunto, perché tutto ciò che si mette in atto per l'Evangelizzazione, e le diverse attività pastorali di cui siete promotori, non venga danneggiato o vanificato da divisioni già presenti o che si possano creare. Le divisioni sono l'arma che il diavolo ha più alla mano per distruggere la Chiesa da dentro. Ne ha due armi, ma quella principale è la divisione, l'altra sono i soldi. Il diavolo entra per le tasche e distrugge con la lingua, con le chiacchere che dividono. E l'abitudine a chiacchierare è un'abitudine di terrorismo. Il chiaccherone è un terrorista che butta la bomba per distruggere, per favore, lottare contro le divisioni, perché è una delle armi che ha il diavolo per distruggere la Chiesa locale e la Chiesa universale.